Catania, il direttore di gara, c'è il corner numero 3 della gara per i siciliani, ancora Ceccarelli, altro cross, dentro l'area! Il colpo di testa vincente di Luca Calapai, che al settantunesimo pareggia i conti, Catania 1, Bari 1. È stato Luca Moro, pardon, a correggere di testa il calcio d'angolo di Ceccarelli e a trovare il palo più lontano, battuto Frattali.